Dopo diverse settimane di notizie non così positive per Crypto.com finalmente oggi sono qui a mostrarvi due nuove funzioni che ha inserito interessanti e comode e soprattutto una notizia che in realtà è stata già data un po' di tempo fa ma che effettivamente da ieri è entrata in funzione che riguarda i cashback delle carte. Quindi rimanete connessi fino alla fine per scoprire tutto quello che vi devo dire quest'oggi. Ma prima di partire con il video ti ricordo del mi piace di supporto, per te è gratis e per me è una grande mano di iscriverti al canale così mi aiuti a arrivare ai 100.000 iscritti anche questa cosa è gratis e la campanellina mi raccomando non dimenticartela e poi in descrizione nel primo link trovi il link invitaunamicodicrypto.com se ti vuoi iscrivere e mettere in staking da 350 euro in su di CRO sia io che te riceveremo 25 dollari di bonus. Quindi se ti vuoi iscrivere ti lascio il link in descrizione. Come ormai la maggior parte di voi sa Crypto.com nell'ultimo periodo ha fatto diverse riduzioni partendo da quella dello staking dove i tassi di interesse sono stati abbassati fino ad arrivare a quella del cashback delle carte che è stato ridotto di tanto fino a ieri che c'è stato un ribilanciamento soprattutto dopo aver visto una risposta molto negativa da parte degli utenti. Adesso ci leggiamo molto velocemente la notizia e vi faccio vedere soprattutto le percentuali aggiornate ad oggi. Ed ecco qui le percentuali di cashback delle carte entrate in vigore ieri 1 giugno 2022. Possiamo vedere che una volta che scade il nostro staking perché giustamente la carta ci rimane non abbiamo nessun cashback fino all'Icy White. Ciò vuol dire che fino a quel momento abbiamo avuto 35 mila euro in staking in CRO e poi è finito lo staking ma comunque la carta ci rimane ed è dell'1%. L'Obsidian del 2. Invece con lo staking attivo che è una cosa un pochino più ovvia non abbiamo comunque più nessuna percentuale alla Midnight Blue che sarebbe quella praticamente che non devi mettere nulla in staking. La Ruby torna ad avere almeno un 1% prima era lo 0,5 e all'inizio era il 2. Poi il 2% sulla Royal in Dingle, sull'Icy il 3 e l'Obsidian 5. Praticamente è slittata di una posizione le varie percentuali. Ed ora che vi ho mostrato i cashback delle carte aggiornati ci tengo a mostrarvi invece le due nuove funzioni che ha aggiunto Crypto.com di vitale importanza e comodità. Andiamo a vederle. Possiamo notare che all'interno del menu ci sono due nuovi voci Recurring Buy e Target Price. Ed ora ve le spiego anche se in realtà ripeto sono semplicissime. Il Recurring Buy non è null'altro che un piano di accumulo. Finalmente Crypto.com ha aggiunto questa funzione. Per coloro che non sapessero cosa fosse un piano di accumulo molto semplicemente come dice anche la parola di Recurring Buy è un acquisto ricorrente. Possiamo decidere su quale asset fare questo acquisto ricorrente, decidere l'importo e soprattutto un quale cadenza rifare l'acquisto e così via. Ciò ci consente di non doverci preoccupare di ogni volta acquistare, fare la procedura. Sarà tutto automatizzato e molto comodo. Ok ora ti mostro come funziona ma è davvero una roba super semplice. Clicchiamo il logo in mezzo che c'è di Crypto.com. Facciamo Recurring Buy. Ci avremo questa schermata. Setup. Qui scegliamo la crypto che vogliamo riacquistare sempre in modo continuativo. Facciamo, che ne so, Kronos. In basso a sinistra la frequenza quindi giornaliero, settimanale, ogni due settimane, mensile. Adesso facciamo, non so, settimanale. Possiamo scegliere ogni che giorno si va a ripetere lunedì, martedì e così via. Il metodo di pagamento che non aprirò e poi ogni effettivamente con che importo fare questo acquisto. Ad esempio 15 euro. Il minimo in questo caso è 13,50 euro. Ecco abbiamo fatto il nostro piano di accumulo. Target price. Ancora più facile. Possiamo decidere di attivare un acquisto automatico o una vendita automatica quando il prezzo raggiunge il target che abbiamo impostato. Lo spiego ancora più semplice. Ad esempio, voglio acquistare bitcoin ad un prezzo stracciato. Metto il target price a 26.000 dollari. Bitcoin, per cause del tutto a me ignote, arriva a 26.000 dollari. In automatico Crypto.com acquista il quantitativo di bitcoin che gli ho detto di acquistare se avessero aggiunto i 26.000. Da lì io, naturalmente impazzito di gioia di aver acquistato bitcoin a quel prezzo, decido di impostare un altro target price, però questa volta in sell, in vendita. E quando bitcoin raggiungeranno, lo so, i 60.000, i 100.000, i 200.000, poi deciderò io in quel momento di panico, venderà in automatico. Non ve lo faccio nemmeno vedere perché è davvero una roba ancora più facile di quella che avete visto poco fa. Ed ora volevo un attimo farvi invece un recap su quella che è la mia situazione con Crypto.com. Lo utilizzo ancora come servizio principale per quanto riguarda l'holding delle mie criptovalute. Come già dissi in un altro video, invece lo staking l'ho esportato su un'altra piattaforma, dato i tassi di interesse che sono andati a calare. Però la reputo un'ottima piattaforma e soprattutto, come dico sempre, fanno un marketing pazzesco e questo ne va a beneficio sicuramente poi di tutto quello che è il resto del sistema. Ma perché Crypto.com la volta scorsa ha abbassato i vari tassi di interesse? Beh, tutto ciò è per la sostenibilità del sistema. Andatevi a vedere il video scorso dedicato proprio a questo, dove spiego in maniera più approfondita del perché abbiano preso queste decisioni. Spoiler, prevedono l'arrivo di 100 milioni di utenti sulla piattaforma. Proprio bricioline. E niente ragazzi, siamo giunti alla fine di questo video che è stato anche abbastanza rapido, però non volevo dilungarmi, volevo darvi giusto le informazioni necessarie a capire i vari cambiamenti della piattaforma e soprattutto le funzioni che hanno messo che, come ogni volta e come ho sempre detto, è davvero molto semplice comprenderle perché Crypto.com è davvero un servizio molto molto user friendly. Comunque, direi che per questo video è tutto. Grazie mille della visione, ci vediamo al prossimo video e carichi eh, mi raccomando. Soprattutto per i contenuti che stanno per arrivare.